Io sono, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non ti farai figure scolpite per lavorarle, potrò offrire in vale il nome del Signore Dio tuo, ricordati del giorno di riporto del santificato. Non uccidere, non commettere a lo perio, non rubare, non rubare. Non fare pausa la testimonianza. Non ci farai figure scolpite per lavorarle, potrò offrire, potrò offrire, potrò offrire, potrò offrire. Non ci farai figure scolpite per lavorare. Non ci farai figure scolpite per lavorare.